Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Incisa Reggello. Rallentamenti per una perdita di carico anche tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandici verso Roma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Proprio in FIPRI sono in atto lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!